E ancora in prognosi riservata all'ospedale di Lanciano, il 22enne di Fossacesi ha coltellato all'alba di Martedin via del Torrione, mentre cercava di sedare una rissa tra coetanei. Sottoposto a intervento chirurgico all'addome, il ferito ha ripreso conoscenza. Sull'episodio indagano i carabinieri di Lanciano, che hanno rimesso un primo rapporto al PM Francesco Carusi, il quale dovrà verificare eventuali altre ipotesi, oltre a quella iniziale di lesioni gravissime contro i gnoti. Appena le condizioni di salute lo consentiranno, il ferito sarà ascoltato in ospedale. Dopo aver ascoltato vari testi, i carabinieri hanno visionato le immagini filmate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area per ricostruire le fasi iniziali di una futile lite tra due ventenni di Lanciano, che il ferito ha cercato di sedare per poi essere colpito al fianco sinistro da una coltellata. L'arma utilizzata non è stata ancora trovata, resta da identificare l'autore del ferimento.